Un uomo, un bracciante agricolo di 44 anni, che si trovava a bordo dell'auto, è stato colpito da alcuni colpi di fucile al collo. L'agguato è avvenuto nella strada statale 115, nei pressi del bivio di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, alle 7 circa del lunedì mattina. L'uomo ferito ha chiesto aiuto ed è stato soccorso e portato all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata. Successivamente le sue condizioni si sono aggravate ed è stato necessario trasferirlo al Sant'Elia di Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, l'auto dell'uomo è stata affiancata da un'altra automobile, da cui sono stati esplosi i colpi. Gli autori dell'agguato si sono sbarazzati dell'auto, una vecchia Fiat Punto risultata rubata e del fucile utilizzato per sparare. L'utilitare è stata abbandonata sotto un cavalcavia, a poca distanza dal luogo dell'agguato, ed è stata incendiata. All'interno è stato lasciato il fucile, trovato bruciato dalle fiamme. La vittima dell'agguato di Palma di Montechiaro, secondo le prime indagini dei carabinieri, non risulta essere inserito all'interno di contesti criminali.